Manette ai polsi del 46enne pregiudicato Maurizio Gallone, considerato l'autore della sparatoria di ieri pomeriggio al quartiere Paolo VI di Taranto, si sarebbe trattato di un incidente. Si attrezzano gli appartenenti al settore degli stabilimenti balneari in vista della calda stagione e attraverso le disposizioni ministeriali che dovranno guidare verso il rispetto delle regole e una boccata d'ossigeno per l'economia turistica messa a dura prova. Via libera per gli obbisti della campagna, ma solo una volta al giorno una nuova ordinanza del presidente Emiliano disciplina il loro accesso ai fondi agricoli, intanto Coldiretti fa la conta dei danni della Xilella. Lo sport, calcio, serie D nel caos, il presidente Sibili assicura vogliamo giocare ma dobbiamo capire chi garantirà la salute, i club sul piede di guerra chiedono la sospensione del campionato. Buonasera e bentrovati, una nuova edizione del nostro netiziario, siamo all'edizione della sera su oltre 2000 test effettuati oggi in Puglia per il Covid-19, soltanto 82 i test positivi, ci sono stati però anche 7 decessi, allora tutti i dati aggiornati. Sono 82 i nuovi contagiati in Puglia con i dati aggiornati a sabato sera, i test effettuati 2145, 25 i casi nel Barese, 2 nella Bat, 19 nel Brindisino, 15 nella provincia di Foggia, 9 nel Leccese, 4 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione e 7 non attribuiti, 7 anche i decessi, 1 nel Barese, 2 nel Leccese, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 nella Bat e 1 anche nel Tarantino. Dall'emergenza sono stati effettuati oltre 40.000 test, 401 i pazienti risultati guariti. Andiamo avanti adesso, le organizzazioni sindacali dei medici della provincia di Brindisi attaccano con una lettera durissima alla gestione dell'emergenza da parte dell'Asle, e le scelte operate dal Direttore Generale Pasqualone. Vi proporremo a breve questo servizio, intanto apriamo la pagina dedicata alla cronaca degli sviluppi in poco tempo, in merito alla sparatoria che si è verificata nel pomeriggio di ieri a Taranto, al quartiere Paolo VI, un uomo è stato arrestato, si tratta di un pregiudicato, restano alcuni dubbi in merito alla circostanza. Al momento le indagini della polizia portano a pensare che il colpo sia stato esploso in maniera erronea. E' stato arrestato l'autore della sparatoria avvenuta al quartiere Paolo VI di Taranto. Si tratta di Maurizio Gallone, pregiudicato tarantino di 46 anni, gravano su di lui i reati di lesioni personali colpose aggravate dall'uso di un'arma, detenzione, porto di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile, rapide le indagini, dopo la segnalazione pervenuta dall'ospedale Santissima Annunziata, dove i due erano stati trasportati perché autonomamente si erano portati all'ospedale Moscati, oggi però riconvertito a Covid Center. Il 46enne, maneggiando la sua penna pistola, si è ferito alla mano sinistra con un foro di entrata e uscita e ha colpito al torace anche un suo amico, il 22enne, oggetto di intervento chirurgico per rimuovere la pallottola rimasta incastrata. Subito è stata ritrovata l'arma, la pistola era nascosta nella Fiat 500 del pregiudicato, aveva anche il bossolo esploso, nascosta in un foglio di carta con evidenti tracce di sangue chiaramente riconducibili all'episodio che sarebbe avvenuto sul balcone di casa dell'uomo. Nell'abitacolo c'erano anche dei proiettili inesplosi calibro 7,65 e 10 grammi di marijuana. A casa di Gallone c'erano anche un barattolo con varie infiorescenze di marijuana del peso di 3 grammi e uno scovolino per armi il 22enne non versa in pericolo di vita. Riapriremo a breve la pagina della cronaca con alcune notizie dell'ultima ora, ma intanto torniamo al Covid e alle ultime notizie. Appena giunto in redazione il servizio realizzato dalla redazione di Brindisi che tratta le rimostranze da parte delle organizzazioni sindacali, brindisine che come dicevamo contestano l'operato dell'ASL nel contrasto al Covid e nello specifico quanto fatto dal direttore generale Pasqualone. La percentuale del contagio in provincia di Brindisi è seconda solo a quella di Foggia e i numeri record sarebbero causati soprattutto dalla gestione dell'emergenza da parte dell'ASL. E' durissima la lettera con cui le organizzazioni sindacali e le associazioni dei medici ospedalieri di base attaccano il direttore generale Giuseppe Pasqualone contestando le sue dichiarazioni con cui invece assicurava che tutto sta funzionando per il meglio. Nella lettera si giudica scellerata la decisione di scegliere il perrino come ospedale Covid, scelta che avrebbe costretto la struttura ad abbandonare l'assistenza a pazienti con patologie croniche. Sarebbero sbagliati anche i percorsi che avrebbero dovuto evitare i contagi e che hanno reso invece le strutture ospedaliere della provincia le fonti principali di trasmissione del virus. Le associazioni dei medici sottolineano come i dati dicano che negli ospedali del Brindisino vi sono pericolosamente più sanitari contagiati da Covid-19 di quanti ce ne siano nelle altre province. I medici parlano di colpevole ritardo da parte dell'ASL di Brindisi nel non aver attivato per tempo un laboratorio di biologia molecolare per processare in loco i tamponi, test che ancora oggi non sono del tutto sufficienti per uno screening in tempi brevi di tutto il personale sanitario, non solo quello del perrino ma anche degli altri presidi ospedalieri della provincia. Il virus e la particolare situazione di pandemia non ferma lo spaccio di droga in Puglia. In base alle ultime notizie di cronaca, oggi proprio nella giornata odierna un uomo infatti è stato colto dalla polizia di stato a Taurisano mentre cedeva una dose di eroina. Si tratta di Alessandro Palma di 43 anni che adesso si trova agli arresti domiciliari presso la propria evitazione. Un pregiudicato, personaggio noto per il suo trascorso di persona dedita all'illecito dello spaccio oltre ad altri reati, era in via Poerio ed è stato notato parlare con un'altra persona non riconosciuta che si trovava in sella ad una bicicletta. Insomma, proprio in quel momento si stava perpetrando questo reato a quanto riferiscono dalla questura di Lecce ma non soltanto perché poi si è preceduto anche ad un controllo dello stesso. Nella tasca posteriore dei pantaloni aveva anche una ingente somma di denaro 115 euro, ritenuta come in questi casi accade provento di attività illecita dalla perquisizione del suo domicilio è venuto fuori anche che in camera da letto nel piede di plastica di un tavolino aveva un pacchetto di sigarette con all'interno otto confezioni di eroina sul comodo e la camera una busta in cellofan utile per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione che vedete in queste foto dunque Palma naturalmente è stato arrestato. Andiamo avanti, un misterioso incendio nella notte a Melissano distrutta dalle fiamme un'auto l'episodio fa seguito a quanto è avvenuto mercoledì scorso quando c'è stato un altro rogo che interessò un'altra automobile sui fatti indagano i carabinieri. Non c'è pace a Melissano dove nella notte a pochi metri da un altro rogo avvenuto solo pochi giorni fa è stata distrutta dalle fiamme un'autovettura intestata ad un uomo del posto. L'allarme è giunto alla sala operativa del 115 alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti in via Campo dei Fiori per domare le fiamme che hanno interessato una Ford Fiesta. Poco più avanti in via della Libertà mercoledì scorso un incendio ha interessato una BMW colpita in circostanze misteriose in quel caso fu la prontezza della proprietaria che riuscendo a spegnere l'incendio prima dell'arrivo dei caschi rossi limitò i danni. Questa volta le cose sono andate diversamente su quanto accaduto stanno indagando ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Casarano si sospetta la matrice dolosa. I carabinieri della stazione Taranto Nord invece hanno arrestato per detenzione in fini di spaccio di stupefacente un trentenne incensurato del posto. I militari sono stati insospettiti dall'atteggiamento irrequieto dell'uomo che si aggirava vicino ad una panchina al quartiere Tamburi. Il trentenne è stato trovato in possesso di 32 dosi di cocaina che aveva occultato in un involucro giallo nei classici ovetti di cioccolata quelli naturalmente per bambini. L'uomo è stato tratto in arresto e si trova adesso ai domiciliari. A Torre Santa Susanna è stato sorpreso con una autocertificazione e non è risultata poi mendace così un uomo di 41 anni è stato denunciato e è residente a Guagnano, nel Leccese. Sempre i carabinieri sono intervenuti a San Pietro Vernotico invece. Lettera di ringraziamento, però questa è una bella notizia, è una torta per i carabinieri da parte di una bimba di 10 anni. Scrivo questa lettera per ringraziarvi per tutto quello che state facendo. Per me siete un esempio. Ha scritto la piccola, non ascoltate chi vi attacca e insulta soltanto perché vede una divisa. Io invece in quella divisa vedo uomini, padri, figli e persone che racchiudono in essa amore e stima per la patria. Non dovete mollare mai. Insomma, un vero e proprio messaggio. Oltre che di ringraziamento, ci pare di capire anche di incoraggiamento. Queste alcune delle parole scritte. Come dicevamo, la bimba ha solo i 10 anni, si chiama Ludovica e il tutto è avvenuto a San Pietro Vernotico. Ci piace darvi questa notizia proprio poi per riaprire la pagina che invece riguarda più da vicino l'emergenza Covid-19 perché nella mattinata odierna è stato dimesso il terzo paziente considerato inizialmente Covid che fa parte della fabbrica Arcelor Mittal. In molti, dobbiamo dire anche sulle nostre pagine, hanno sollevato alcuni dubbi merito a queste notizie. Si chiedeva che cosa fosse accaduto nell'effettivo. In questo servizio ve lo spieghiamo perché inizialmente c'erano stati due tamponi risultati negativi. Il terzo tampone invece parlava di Covid nel paziente. Poi però i controlli più specifici e accurati, a cura dei sanitari del Covid-hub, immoscati di Taranto, hanno rivelato una situazione diversa. Si trattava di altri sintomi, soltanto sovrapponibili. Il servizio. Eccolo il presunto terzo caso di Covid Arcelor Mittal a Taranto. È finalmente fuori. Buongiorno a tutti. Come si sente? Bene, grazie. Ho avuto la fortuna di poter uscire con questa negatività tramite analisi, quindi sono veramente contento di questo. Che aria tira in fabbrica? L'aria purtroppo è abbastanza nervosa perché comunque per la situazione che ci troviamo in questi periodi, diciamo, andare a lavorare diventa un rischio maggiore oltre a quello che già, diciamo, abbiamo dentro. I suoi sintomi erano sovrapponibili al Covid, ma fortunatamente pare che non si tratti di Covid. Sì, esattamente sì. Ritirato da lavoro di secondo turno ho incominciato ad avere questi sintomi febbrili. Ho avvisato gli enti competenti per poter analizzare un attimo tutto il problema e vedere se effettivamente avessi questa positività o meno. Si sente sollevato? Con che animo adesso torna a casa? Beh, sinceramente con due tipi di stati d'animo. Uno perché comunque sono felice che non ho preso questo tipo di virus e l'altro che comunque dovrei riabbracciare la mia famiglia, i miei parenti, i colleghi di lavoro e naturalmente quelli che mi sono stati vicino tramite social. Ma intanto all'ospedale Moscati il Covid Hub di Taranto prosegue la grande solidarietà. In questo caso è il cuore degli agenti di Polizia di Stato. La squadra volanti oggi ha consegnato un gran numero di alimenti per tutti gli operatori, ma non soltanto. A voi servitori dello Stato che oggi state pagando il prezzo più alto con la vostra vita. A voi che nello stesso tempo state donando forza e speranza ad un popolo che ha paura di questo mostro invisibile. Questo piccolo gesto è in vostro onore, personale sanitario dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, ma idealmente va a tutti coloro che come voi indossando un camice stanno combattendo e lottando in tutta l'Italia. Ecco, avrete notato nella voce della dottoressa di direzione sanitaria medica dell'ospedale Moscati anche qualche pausa per l'emozione del momento. Sì, perché non era previsto, in tanti lo avete visto, poi sono scesi dai reparti per poter ammirare con i propri occhi che cosa stesse accadendo. Bello anche, ci è piaciuto anche includere in questa cronaca della mattinata la solidarietà che non si ferma. A margine della notizia invece del dimesso presunto Covid, vogliamo specificare proprio in merito, continuiamo a sottolinearlo, ai dubbi che sono stati avanzati nelle ultime ore, sicuramente legittimi da parte dei lettori e degli spettatori, ma più in generale di chi scrive sul web, sulle pagine social, dobbiamo dire che naturalmente è sempre necessario, lo ricordiamo, affidarsi alle fonti ufficiali e che la prudenza non è mai troppa quando si parla di una pandemia, dunque l'uomo era stato ricoverato perché i sintomi erano sovrapponibili, ma fortunatamente non si tratta di Covid, ciò lo specifichiamo, lo ripetiamo, per chi non ci avesse capito più di tanto, adesso speriamo sia finalmente tutto chiaro. Adesso una cronaca molto speciale, nel prossimo servizio che porta la firma di Gianmarco di Napoli, che questa mattina ci ha condotti a Serranova, nel Brindisino, una quarantena molto speciale tra isolamento evidentemente, ma anche natura, una reclusione forzata che però ancora di più fa emergere il contatto diretto con la natura, che non interrompe il suo corso di questa bella e calda primavera. La musica del bolero di Ravel si diffonde dall'altoparlante del bar di Tonino e risuona in una Serranova sonnecchiante, in cui la spensierata vita del borgo di Campania è ovattata dalla quarantena e dalla paura del contagio, che qui è sentita forte perché buona parte dei residenti provengono da Carovigno e Ostuni, i due comuni più colpiti dal coronavirus e dai lutti. Così il bar, supermarket, tabaccherie e quant'altro di Tonino Iaia, cuore pulsante di Serranova, resta l'unica pervenza di normalità. Ma qui, dove il tempo sembra scorrere lento più che altrove, questa reclusione un po' privilegiata dall'irruenza della natura, che non si impossessa degli spazi, ma li condivide amorevolmente con gli esseri umani, regala anche momenti di riflessione. La comunità è come quando c'è stata una neve, che tutti non possono muoversi, e l'hai vista di bloccata come in un manto di neve dove non puoi camminarci. Certo, la neve dopo un po' di tempo comincia a diventare fango, comincia a dare problemi. A Serranova anche una boccata d'aria alla finestra o sul balcone equivarrebbe a una giornata di vacanza per chi affronta la quarantena cercando uno spicchio di natura tra i tetti e il cemento della città. Io dall'8 di marzo si esce a malapena andare a fare la spesa, però siamo meglio degli altri perché siamo più all'aria aperta. Tutto aggiunge un centinaio di persone, però siamo meglio dei paesi. La chiesa è chiusa, l'ufficio postale apre solo il venerdì, deserto anche il centro visite di Torri Guaceto. I padroni del borgo sono i sei cani randaggi che qui appartengono a tutti e che sembrano aspettare che i bambini tornino in strada o a popolare festosamente il parco giochi. E c'è chi esce da casa per la prima volta soltanto oggi. Questa dopo 40 anni sono scendo stamattina. Questa è la fortuna mia che stiamo in campagna e non sto sola. Vicino a me ho quattro figli e 12 mitoti. E sono baricato in casa. Ogni tanto esco qui a fare un po' di spesa. Il vero patrimonio di Serranova sono gli ulivi distese e sconfinate che parlano di storie antiche e di miracoli. E il tesoro più prezioso è l'olio, l'unico baluardo di normalità che paga però il dazio dell'isolamento. I parecchi di fuori paese non possono venire per comprare l'olio. Questa ci dà il gioco un po'. Perché noi in questo periodo viviamo soprattutto l'olio. E poi Cettonino, un po' filosofo e un po' poeta, il vero metronomo del borgo, anche in questi mesi, di isolamento nell'isolamento. E la gente è tranquilla, silenziosa. Quando arrivava una volta e gridava Tonino adesso lo dicono piano piano perché sanno di non poter essere cuore, di non poter parlare. Ci sentiamo tutti un po' contrabbandieri della nostra vita stessa. Anche questa è la quarantena da coronavirus. Adesso proseguiamo con la pagina che abbiamo aperto ormai una settimana fa, quella delle curiosità, delle perplessità dei gestori dei lidi balneari. Come quando si riaprirà? Resta un punto interrogativo, anzi numerosi, sulle modalità. Intanto in Salento i lidi più noti al pubblico hanno già deciso che la notte non saranno aperti. Dunque addio alle feste estive, almeno per il 2020. Pochi giorni addietro il governatore di Puglia, Michele Emiliano, ha parlato di stagione estiva dignitosa, dando fin da subito la possibilità agli stabilimenti balneari di installare le attrezzature sulla battigia. Una situazione che però non soddisfa e non rasserena gli imprenditori di questo settore che vedono ancora troppa incertezza nel loro futuro. C'è una situazione di confusione perché comunque ci hanno dato la possibilità di iniziare a intervenire sulle strutture, fare la manutenzione e questo ci fa molto piacere perché possiamo portarci avanti. Però realmente, non sapendo ancora quando possiamo aprire e in che condizioni, non sappiamo bene come poterci gestire e soprattutto non sappiamo cosa rispondere ai nostri clienti che giustamente ci chiedono quando sarà possibile venire al mare. In molti casi i lidi della costa salentina la notte si trasformano in vere e proprie discoteche o in luoghi di intrattenimento. Qualcosa che però difficilmente potremo vivere nell'estate 2020 come già affermato dal gestore del Mamma Nero. Noi abbiamo già deciso di non aprire la sera per gli intrattenimenti in quanto comunque c'è agglomerazione di persone e di conseguenza non reputiamo che sia giusto e in linea con le regole sanitarie che ci sono. Sicuramente quest'anno non ci saranno feste su questa litorale. Dubbie e incertezze che si insinuano anche sulla stagione 2021 con un tema spinoso come quello legato alle concessioni demaniali che da sempre sono al centro di una discussione che pare essere senza fine. Ma fondamentalmente delle concessioni monche che a fine anno scadranno implicano che nessuno investirà soldi nessuno si impegnerà da poter dire investo nella mia azienda tanto l'anno prossimo recupero è follia è follia avere delle aziende che scadono al 31-12 con uno Stato che ci dice se avete problemi economici potete andare in banca e chiedere un finanziamento garantito ma la banca non dà un finanziamento a un'azienda che finisce fra sei mesi. Di conseguenza diciamo che se non rinnovano le concessioni parliamo di nulla. Queste sono le legittime preoccupazioni degli addetti al settore ma resta caldo anche in Puglia il tema della Xilella stimati danni per oltre un miliardo e mezzo così la Col di Retti lancia l'allarme. La Xilella fastidiosa rischia di costare quasi 20 miliardi di euro e la stima è realizzata dalla rivista americana PNAS sulla valutazione dell'impatto economico dei danni provocati dalla Xilella fastidiosa Pauca sull'olivicoltura in Italia Grecia e in Spagna. Lo studio condotto da un team multinazionale di ricercatori guidati da economisti di un'università olandese è finito sulle più importanti testate europee e mondiali e parla di danni solo per la Puglia di 1,6 miliardi di euro negli ultimi sei anni. L'allarme è stato rilanciato dalla Col di Retti Puglia il reimpianto di oliveti con varietà resistenti potrebbe però contenere l'impatto in 1,6 miliardi mentre la riduzione del tasso di diffusione del batterio e della malattia potrebbe evitare danni fino a 1,3 miliardi di euro. La richiesta della Col di Retti quindi è quella di dare immediata e piena attuazione al piano con decreti attuativi e bandi ad hoc. Il piano di rigenerazione per l'area infetta del Salento assegna maggiori risorse agli agricoltori con gli interventi compensativi sulle calamità naturali. La Col di Retti nella nota firmata da Savino Muralia presidente della Puglia prosegue non è ipotizzabile alcun rinvio o ritardo il Salento ha già pagato a caro prezzo gli anni di errori nel Salento gli agricoltori sono senza reddito da sei anni si legge ancora si contano milioni di olivi secchi i frantoi sono stati svenduti a pezzi in Grecia Marocco e Tunisia sono andati persi 5.000 posti di lavoro nella filiera dell'olio extravergine d'oliva con un trend che rischia di diventare irreversibile ricorda Col di Retti Puglia se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare dopo anni di tempo perduto inutilmente il disastro colposo nel Salento gli autori dello studio poi concludono che in considerazione dell'attuale indisponibilità di una cura e di incoraggianti ricerche sul controllo dei vettori la riconversione con varietà resistenti appare al momento la strategia più promettente a lungo termine si legge nella nota di Col di Retti i risultati sottolineano la necessità di rafforzare la ricerca in corso sui tratti di resistenza delle coltivazioni e l'applicazione delle attuali misure fitosanitarie tra cui il controllo dei vettori e la soppressione dell'inoculo con la rimozione delle piante infette intanto il governatore Emiliano con un'ordinanza ha concesso ad agricoltori e allevatori di bestiame la possibilità di recarsi anche in una città diversa dalla propria residenza per la coltivazione l'ordinanza si rivolge agli obbisti di agricoltura e allevamento sarà possibile recarsi sul luogo di lavoro non più di una volta al giorno Sostenere l'economia della propria zona attraverso l'erogazione dei buoni vincolati l'idea innovativa arriva da un imprenditore di Casarano Le iniziative di solidarietà in questo momento non si contano e chi può si sta dimostrando sensibile ad un momento difficile per tutti ci sono però imprenditori che scelgono di premiare i propri dipendenti che in questo momento difficile continuano a lavorare garantendo la continuità della produzione è il caso della Janne Shoes di Casarano che ha scelto di regalare 10.000 euro in buoni ai suoi dipendenti con il vincolo di spendere questo buono all'interno del territorio di Casarano tra le attività che fanno parte dell'associazione dei commercianti un modo intelligente per rimettere liquidità all'interno dell'economia locale niente noi abbiamo valutato di optare per questa iniziativa in collaborazione con il presidente dell'associazione commercianti di Casarano per diciamo dare uno stimolo proprio all'economia del commercio a Casarano che comunque in questo periodo la maggior parte delle attività sono chiuse e quindi staranno soffrendo tantissimo e quindi diciamo è giusto e ho ritenuto giusto dare una mano in questo senso coinvolgendo un po' tutti i nostri dipendenti che sono diverse centinaia di dipendenti a spendere diciamo in queste attività associate all'associazione proprio di Casarano del nostro territorio ovviamente la risposta dei commercianti è stata eccezionale se non addirittura commovente come commenta l'imprenditore Salentino sì io sono stato inserito anche nel gruppo dei commercianti che aderiscono all'associazione appunto dei commercianti di Casarano per cui ho apprezzato molto diciamo i commenti positivi e i ringraziamenti alcuni veramente commoventi a mia volta chiaramente ho ringraziato sul gruppo stesso tutti i partecipanti questa però non sarà l'unica iniziativa e dal tacco della Puglia arriva l'invito anche ad altri imprenditori a utilizzare questo format per aiutare l'economia locale un format simbolico che ci auguriamo possa servire per per diciamo convincere anche altri imprenditori ad utilizzarlo per per iniziative diciamo di questo tipo chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi di vicinato cosiddetto sia nella media e grande distribuzione anche i centri commerciali nelle giornate del 25 aprile 26 aprile e primo maggio la decisione arriva dal presidente della regione Puglia che oggi ha emanato una ordinanza sono consentite invece le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici consegna a domicilio nel rispetto naturalmente delle norme igienico-sanitarie l'esercizio delle edicole tabaccai farmacie e parafarmacie riapre il mercato settimanale di mattino destinato alla vendita di soli generi alimentari prodotti per l'igiene e profumeria per il momento comunque stiamo andando bene abbiamo lavorato stamattina con la distanza che ci siamo tenuti dobbiamo ringraziare Dio sta andando piano piano stiamo cominciando un pochettino a lavorare cerchiamo di recuperare il tempo che siamo stati a casa 40 giorni abbondanti no 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 per adesso niente si mantengono le distanze si 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 tutto a posto infatti siamo già qua perché queste cose non le fanno la mancelleria e allora vengo sempre qua un po' lentina però è andata si riprende piano piano si riprenderà sicuramente area transennata accesso controllato guanti e mascherine obbligatorie riprende così dopo 4 settimane di assenza il mercato settimanale di mattino con la presenza di sole e bancarelle destinate alla vendita di generi alimentari prodotti per l'igiene e profumeria si è svolto tutto in maniera regolare non è mancata qualche discussione con chi non voleva indossare i guanti che comunque venivano forniti gratuitamente dalla protezione civile l'ingraziamento va proprio ai ragazzi dei volontari della protezione civile che si stanno veramente dando da fare insieme ai nostri vigili urbani che diciamo presidono il territorio ma anche sono pronti a dare una mano alle persone che ne hanno bisogno abbiamo delimitato tutta l'area garantendo l'accesso con dispositivi di sicurezza guanti e mascherine oltre che assicurare il distanziamento sociale di un metro fra le persone questa la voce del popolo al microfono del nostro Paolo Franz adesso ci spostiamo a Taranto entro l'estate sarà pronta la palestra Ricciardi ad assicurarlo ai nostri microfoni l'assessore al ramo Occhinegoro che nel frattempo dà notizia anche di un'altra novità sono stati avviati i progetti e si avviano addirittura anche alla conclusione per lo meno per la fase di progettazione quelli della pubblica illuminazione nella zona di Lama non si fermano a Taranto i progetti predisposti dall'amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci interessanti novità arrivano dalla direzione lavori pubblici l'assessorato retto da Obaldo Occhinegro sono terminate le procedure di appalto per la costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione a Lama in zona battaglia il primo lotto con un importo a base di gara di quasi 544 mila euro il secondo da 396 mila entro l'estate inoltre sarà pronta la palestra Ricciardi al quartiere Salinella nell'area del campo scuola danni oggetto di richieste da parte delle associazioni sportive del territorio sono stati già modernati gli impianti elettrico e antincendio abbiamo abbattuto come vedete la tribunetta per ricavare due nuovi bagni che sono in questo momento in costruzione avremo un nuovo bagno anche per portatori di endito adesso si proseguirà con il parquet e la muratura l'intervento consentirà anche di risistemare le aree esterne una struttura utilissima in vista dei giochi del Mediterraneo a fianco a questo impianto abbiamo come sapete il campo scuola che attualmente è soggetto di un grande appalto di qualificazione e faremo di tutto per affidare i lavori entro questo mese e quindi partire poi con i lavori veri e propri entro l'estate tante le priorità evidentemente in primo piano la salute il lavoro però non mancano le difficoltà anche in altri settori della nostra economia pugliese come quello della moda la moda che anch'essa si trova in difficoltà la nostra Maria Teresa Carrozzo ha raccolto un appello di un avvolto anche abbastanza noto nel panorama la macchina della moda si è bloccata a causa di questa pandemia a livello mondiale oltre ovviamente a livello nazionale lei è stato protagonista della fashion week dell'ultima edizione è famoso a livello internazionale però al momento è tutto bloccato che danno ha avuto la moda a livello nazionale ma a livello locale quindi anche su Lecce siamo indietro oramai bloccati da due collezioni l'attuale quella che non abbiamo potuto né presentare oltre alle sfilate ai giornali e alla televisione ma negli showroom quindi è lì come come elemento decorativo di un negozio chiuso è bloccato ha creato una filiera locale al momento si è bloccato tutto e questo ha portato a bloccare ma non solo fisicamente materialmente le persone che lavorano ma proprio ci ha bloccati mentalmente cioè nel senso che siamo un po' svuotati da questa situazione perché questa situazione non è facile da accettare è drammatica sicuramente per le persone che non stanno bene ma è più drammatica per le persone che vogliono lavorare e non possono lavorare noi che ovviamente siamo stati offesi con 600 euro al mese sperando che ci arrivino lo Stato ci sta offendendo veramente in tutto ci sta offendendo io parlo di me personalmente cioè se io valgo 600 euro meno di un mio dipendente vuol dire che ho lavorato male o che effettivamente non produco tanto per pagare tante tasse come invece le ho pagate finora è davvero tutto per questa nostra edizione del Tg Serale non ci sono al momento ulteriori aggiornamenti noi vi invitiamo per le notizie sempre aggiornate anche a visitare il nostro sito canale85.it e la nostra pagina Facebook ricca anche di contenuti extra e dirette live grazie intanto per l'attenzione fin qui prestata segue come sempre l'informazione sportiva per il resto vi auguro una buona serata e vi ricordo che alle 22.30 torna in diretta la nostra informazione con le ultimissime arrivederci grazie a tutti grazie a tutti